Sì ok abbiamo vinto bene è abbastanza difficile come gioco per capire un po' vanno le persone e tutta siiii Gordo, godo Adesso ho capito un po' come funziona Andiamoci da fare Cos'è sta roba? Oh Locus E vai Strutto Oh Ok, grazie E vai Strutto Demolito Grazie E vai E vai Grazie. Grazie. Sì. Oh my god. 6-0 li abbiamo stracciati. Anche primo è arrivato benone. Alla raga, al prossimo video.